Benvenuti in questo nuovo video speciale di Natale 24 vigilia quello che volete insieme a Marco Ciao Ciao e solo per questo mettiamo un like perché i video di Natale sono i migliori Oggi 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 Abbiamo scaricato un video Vines ragazzi una compilation bellissima che non abbiamo visto E cercheremo di non ridere Sicuramente rideremo come dei malati La try not challenge Quindi noi Eh sì sarebbe una prova a non ridere challenge La challenge La challenge Quindi voi nei commenti già siccome noi perdiamo sicuramente Scriveteci un pochino di penalità da fare Se rideremo però rideremo sicuramente Tipo prendere agginocchiate in faccia le persone Basta che non sia cibo perché devo ancora fare la blindfold per l'altra serie che dovremmo fare Quindi basta cibo basta Ok basta Tipo andare da un uomo e dirgli Salve io preferisco Charizard Lei Quindi iniziamo subito Eeeh via col video Vado Vai Noi a scar, be thankful, it ain't thanksgiven new year's resolution oh my god, oh my god all I want is love is you so, I was a fool 4, 3, 2, 1 why, hello, mrs. Claus, have you been naughty this year? oh, you have it's a new year, new me flag, flag come to me, lady let's get crazy for new year hehehe hehehe you gonna be happy when I put my dick inside the bow new year, new me I'm gonna go my fullness, i'm gonna eat healthy i'm gonna raggy ass girl, why you acting like you hot new year, new me, no bitch you still a thot oh, what are you doing, shortness cover your hair oh, shit Oddio I'm gonna use the treadmill I'm gonna use the treadmill Happy New York Thanks Dad What? Shut up I love it Come so che ho Pisa che ho scritto Hahahaha 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 It's been a while huh I haven't vine since like last year Merry Christmas guys We're Jewish Happy Hanukkah I wanna give a gift to you Logan it's Christmas Hahahaha 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 Quindi ragazzi per questo video è tutto Fateci sapere se vi è piaciuto Alla fine abbiamo riso un pochino troppo Quindi la challenge dovremo farla entrambi Diceci sotto nei commenti che challenge fare Mi raccomando lasciate un mi piace e buon Natale Ciao